Edizione speciale, si parte dalle radici quest'anno? Sì, è una due giorni interessante perché accanto appunto ai racconti degli itali discendenti e che quindi hanno portato e portano pezzi di storia, di emigrazione e di vita, di vita attraverso i vari continenti, la Dio Dufantin quest'anno ha davvero una chicca, una chicca perché si riscopre un episodio e un personaggio poco conosciuto della storia dei Fieschi, ma importantissimo perché parliamo di Bartolomeo Fiesco, nipote di Santa Caterina Fieschi Adorno, nonché ammiraglio del quarto viaggio di Cristoforo Colombo. E noi torniamo il 13 agosto, il 14 agosto. Come famiglia avete sempre partecipato, credo con tanto piacere. Moltissimo, moltissimo piacere da sempre, da due anni prima delle celebrazioni colombiane, ho incominciato, ho ripreso andare a cavallo e tante cose col professore Albino, proprio mi aveva preso come, quasi come un figlio, ecco, uno zio. La serata è lunga. La serata è lunga perché sono tante cose, ci sono le danze, ci sono i duelli, ci sono i giocolieri, ci sono i musici, insomma c'è tanto, i tamburini, i nostri sbandieratori, che sono il gruppo portante un po' di tutta la manifestazione, che è quella che legano un pochino tutte le varie cose. Sono giornate dove si sente il suono del tamburo che arriva anche distante. Diciamo che ha una nota di queste giornate e del nostro gruppo, il gruppo musici, che da sempre ha dato una nota di, diciamo, vivacità a questo gruppo e ha portato il suo suono in giro anche per altri paesi e altre regioni.